ciao benvenuto su easy harp il primo sito di video lezioni sull'armonica blues interamente in italiano in questo video vi spiegherò perché la seconda posizione sull'armonica è quella più comunemente utilizzata per suonare blues ovvero contate cinque note a partire da una armonica di do suonerete in seconda posizione su una tonalità di sol come vedete nello schema l'ottava di riferimento va dal secondo foro aspirato e ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con easy harp take it easy take it easy via